Musica Cari amici di Telegenova bentornati ad una nuova puntata di tutto lo sport minuto per minuto Ma non perdiamo tempo, vi vado subito a presentare gli ospiti in studio Questa sera parleremo in questo primo blocco di Golf su Pista Lo faremo con Aldo Bugliani, presidente del Rappallo Mini Golf Benvenuto Buonasera E al suo fianco Stefano Biagioni che è invece il vicepresidente Benvenuto anche a lui Buonasera Buonasera ai nostri ospiti Allora introduciamo l'argomento Golf su Pista Che magari tanti telespettatori non del settore conoscono forse meglio come Mini Golf Vogliamo raccontare il nome, qual è il vero nome della vostra disciplina? Golf su Pista nasce dalla fusione di due federazioni L'associazione italiana Sport Mini Golf E l'associazione FISM Federazione Italiana Sport Mini Golf Però una era un'associazione, l'altra una federazione E' nata quando c'è stato l'avvento dell'Alto Adige all'interno della nazione italiana In quanto prima erano con i tedeschi Federazione Italiana Sport Pista Intanto, scusami, torno un po' subito Mentre parliamo Vediamo in sovraimpressione delle immagini Ora, girate dove? Novi Ligure Novi Ligure, ok Di alcune gare Questo è un nostro nuovo socio Che si è appena iscritto Quest'anno comincerà come esordiente Questo sono io? No, qua siamo a Santa Margherita Ligure Sì, ci sono varie fasi Quindi prima era Novi Ligure, questa è Santa Margherita Ligure, il campo appena riaperto Dopo otto anni di buio Sì, di abbandono L'hanno riverniciato tutto L'ha preso uno, un nostro caro amico che è stato anche in nazionale Uno conosciuto molto a livello minigolfistico E con un po' di passione è riuscito a riportarlo Questa era la gara inaugurale che abbiamo fatto domenica scorsa Ecco, recentemente Ecco, dicevamo interrotta Ci mancherebbe La federazione italiana gol su pista Perché gol su pista? Perché ci sono tre specialità Sì Uno è il minigolf, quello classico, un cemento Quello tradizionale Che forse conoscono tutti Il secondo è il miniatur golf Che è su piste montate Però pur avendo ogni pista brevettata Si può posizionare la pista come si desidera Quindi la pista numero uno, la pista numero due Non debbano essere uguali su tutti i campi La terza specialità è il filz Che sono delle piste con una copertura di moquette Poco presenti in Italia Sono forse più da nord Europa Più da nord Europa In Liguria c'è un solo campo di miniatur golf Che è sul campo di Rapallo Campo che noi abbiamo il piacere Non lo gestiamo ma siamo il club di riferimento Poi esistono anche delle altre specialità Tipo il fantasy Che vengono considerate specialità Però non c'è un torneo vero e proprio Un campionato vero e proprio Non fanno parte della federazione italiana Assolutamente Ma come funziona? Abbiamo visto in generale Molti sanno come è il discorso C'erano 18 buche Chiaramente con la mazza occorre Diciamo che è un po' come il golf In principio è lo stesso C'è 18 buche Vince chi fa meno colpi Chi ha un minimo di dimensichezza con il golf Praticamente è la stessa cosa La differenza qual è? Che le piste sono sempre tutte uguali Cioè la pista numero 1 Di Rapallo è identica Alla pista numero 1 di Santa Margherita Quello che varia è la natura stessa Le piste sono fatte in cemento Si trovano in zone diverse L'umidità, la temperatura Le piante stesse spostano al cemento Per cui le varianti sono infinite Noi usiamo tendenzialmente una mazzetta sola Che negli anni addietro 30-40 anni fa Veniva utilizzata la mazzetta Che usano i giocatori di golf Poi si sono evolute Per il patto da green Sì praticamente Mentre a livello di palline Parliamo di migliaia e migliaia di palline Di differente tipo Salto, peso, laccate, non laccate Qua vediamo per esempio un tiro alla 2 di Santa Margherita Scusate la ripresa di mio figlio Questo tipo di pallina permette di fare un gioco di questo genere Si apre un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui sono abituati Quelli del pubblico Ma come funziona? Ogni società, ogni club organizza delle gare? Comunque ci sono anche tappe nazionali? Esiste anche una classifica nazionale? La federazione che organizza le gare E diciamo che abbiamo su 52 domeniche ne abbiamo impegnato una quarantina Quindi la stagione è parecchio intensa La stagione è parecchio intensa Ovviamente non tutti fanno 40 gare Non li fa quasi nessuno Perché molte sono in concomitanza Cioè la stessa domenica magari c'è una gara in Liguria C'è una gara in Veneto C'è una gara in Lombardia E quindi a secondo dell'ubicazione dei club Uno decide dove andare a... Ma tutte le gare valgono per la classifica nazionale Come siamo messi in Liguria a livello di impianti A livello anche di iscritti Allora come impianti abbiamo un impianto a Rapallo Una Santa Margherita Come diceva il mio vice Che è da poco inaugurato Abbiamo un impianto a Varazzi Abbiamo due impianti nella zona d'Imperia Purtroppo abbiamo un impianto a Genova I piani di Fregose Un impianto a Varazzi La località Castagnabuona Che sono in disuso da anni Quello di Genova funziona a livello di pubblico Ma non più a livello competitivo Bravissimo Mentre quello di Varazzi Addirittura il proprietario fa dell'altro E non sappiamo neanche se le piste sono ancora in ordine O sono state abbattute Peccato perché era un bellissimo impianto Sì purtroppo sono piste Specialmente la specialità 1 Come quella di Santa Margherita Che essendo in cemento Va fatta la manutenzione continua Da stucature Da riveniciature Cioè se lo lasci anche per due anni Si distrugge Si corre il rischio che non basta più la manutenzione Ma devi completamente rifarlo da zero Ci sono i campionati italiani I campionati mondiali Esatto Questa è la domanda proprio successiva Che volevo fare Esiste anche una graduatoria nazionale C'è un campionato nazionale Come funziona? Nell'arco della stagione Vengono sommati i presumi risultati Delle varie tappe Esatto Poi ci sono delle finali C'è il campionato italiano assoluto E noi abbiamo la fortuna di avere Nella vicina Novi Ligure Paolo Porta Che è un grandissimo giocatore E' stato campione del mondo Ah ecco Quindi Esatto Attualmente gli ultimi E' arrivato quarto Se non sbaglio Per cui è quarto al mondo Comunque Sempre a livello Ecco nel mondo Il golf su pista Minigolf Quali sono i paesi In cui Sono molto forti Quelli di lingua tedesca La Germania L'Austria L'Itk La Svizzera Poi ci sono delle particolarità Curiose Mentre noi I nostri ragazzi A scuola Nel Nel orario Delle materie Hanno anche la ginnastica In Danimarca Nell'intervallo Tra un'ora e l'altra Vengono fatti giocare Di miniature golf E li portano a giocare Allora il gioco forza Aumentano i tesserati Aumentano i tesserati E aumentano le prestazioni Dal punto di vista tecnico Perché chiaramente E' vero che abbiamo avuto Un campione mondiale Ma abbiamo anche Gli altri 20 A seguire Che sono tutti stranieri Quindi abbiamo una perla Un caso isolato Un caso purtroppo isolato Ma mi può rispondere Chi vuole dei due Quali sono le caratteristiche Ideali per essere Un buon giocatore Ci vuole A mio avviso Un discorso di concentrazione Oppure dell'abilità La concentrazione Si può costruire Si può costruire il giocatore Oppure nasce L'abilità innata Secondo me è fondamentale Cioè nel senso Come tutti gli sport Ti puoi allenare Quanto vuoi Ma se non hai Un minimo Di abilità Tua Puoi giocare Comunque Ma non arrivare A livelli Di Paolo Porta Però Sicuramente La concentrazione È una delle cose Più importanti E poi L'allenamento Continuo Perché comunque È un gioco Di calma E quello Per esempio Lo rende a volte Difficoltoso Perché non fare Un asso In questo caso Per esempio Un asso Vuol dire buca In un colpo Al primo colpo Magari non lo fai Per un soffio Perché ha preso Un sassolino Ti puoi nervosire E questo è un aspetto Molto importante L'allenamento È importante Soprattutto perché I campi variano In continuazione Cioè variano Per la struttura Del campo stesso Ma all'interno Di una singola gara Tu ti puoi allenare Un giorno Che ci sono 20 gradi L'umidità Al 40% Poi il giorno La gara C'è il 70% 3 gradi di meno Se un palline in gomma Cambia completamente tutto Per cui l'allenamento Serve ad adattarsi A queste situazioni E chi non ci conosce Rimane un po' perplesso Perché ci vede Scaldare O raffreddare Delle palline Durante la stessa gara Sono segreti Sono piccoli segreti Ma purtroppo Alle volte Un briciolo Di temperature In più o in meno Fanno sì Di fare la pista In un colpo solo Invece che in due Purtroppo Quello che io vorrei dire Di importante È che purtroppo Il mini golf È sempre stato visto Come un gioco ludico C'è una cosa solo Per bambini In realtà è uno sport Tutti gli effetti È uno sport vero e proprio Serio Ci sono La cosa bella del mini golf Che forse non è stato ancora Completamente inquinato Dal dio denaro Come tanti altri sport Per cui si va a giocare Per il puro gusto Di giocare Per divertirsi Per stare in mezzo Agli amici Eccetera Che è fondamentale Esistono delle categorie Specifiche Oppure le gare Si affrontano Cioè a qualsiasi tipo Di età Si viene divisi Normalmente ci sono due categorie Che è la prima E la seconda categoria La prima categoria Viene chiamata Elite Nelle gare internazionali E poi ci sono Gli Schuller E gli Juniors E i Seniores E i Seniores Nelle categorie internazionali Che sono quelli Oltre 45 anni Tra l'altro i Seniores È una categoria Molto nutrita Eh infatti Questo è un altro discorso È un tipo di sport Che comunque si può praticare Diciamo a qualsiasi No abbiamo dei giocatori Di 80 anni Il problema A noi piacerebbe Che invece Ci si avvicinassero Molto di più I giovani Sono pochi i giovani Poi ci siamo accorti Che effettivamente Per i bimbi Sotto i 9-10 anni Possono esserci Delle difficoltà Proprio di È uno sport Purtroppo Abbastanza costoso Perché non costa tanto All'associazione Alla federazione Che è una sciocchezza Il problema è Spostarsi Dato che si va a fare Una gara follonica In Toscana Ah con le tappe dove sono Di solitamente Quali sono i campi Alto Adice Piemonte Liguria Ovviamente la Lombardia Che è la più presente Come numero di campi Ma la Toscana C'è un campo in Emilia Ce n'è uno in Puglia Ce n'è uno Insomma Anche a Roma Ce n'è uno nuovo Che hanno aperto a Roma Con la collaborazione La Nazionale Cantanti Insomma I chilometri Sono parecchi da fare Se uno Se la spesa Più che altro Se volentieri Facciamo sabato mattina Per tornare la sera Vai a fare una gara a Roma Ti sei fatto mille chilometri E' andata e ritorno Devi dormire fuori E' impegnativo Tanti da 40 anni Tra l'altro quest'anno È il 42esimo anno Di attività Della nascita Del club E del campo E' una gara internazionale Abbiamo avuto in passato Anche molti stranieri presenti Non so se quest'anno Avremo degli stranieri Però Tanti Tanti italiani Abbiamo superato I 100 iscritti Più di una volta E' una gara Un po' massacrante Perché inizierà Alle 8 del mattino E a secondo Del numero di iscritti E' facile Che le premiazioni Si faccia intorno Alle 18-19 Però è una gara Di grande soddisfazione E poi massacrante Soprattutto per Chi la organizza Perché noi Arriviamo sul campo Inizia a organizzare Il computer Prepari le piste Pulisci Poi devi giocare Perché anch'io gioco Lui gioca Però a fine del giro Se non sei l'organizzatore Ti riposi Io Non mi posso riposare Per cui Veramente Arrivi alla domenica Sei distrutto Ecco Abbiamo ancora Una trentina di secondi In tempo Proprio per Spiegare Chi non lo sapesse Dove Deve venire Se vuole vedere Assist Allora il campo E a Rapallo Nel parco casale Dove ci sono le due specialità Sia quella del miniature golf E quella del mini golf Dove ci sarà la gara al 30 Speriamo che qualcuno Ci venga a trovare Siamo ben felici Di far vedere Il nostro sport Che non è un gioco Abbiamo anche un sito internet Che è www.rapallominigolfteam.it Che gestisco io Per cui La ringraziamo Dell'ospitalità Buonasera Ringrazio voi Ringrazio Aldo Bugliani Ringrazio Stefano Biagioni Torneremo magari in futuro A parlare del vostro sport E della vostra disciplina Non andate via Perché dopo la pubblicità C'è il secondo blocco Di tutto lo sport Minuto per minuto Grazie a tutti Grazie a tutti